Bentornati, sono sempre Marco Vigellini, continuiamo ad analizzare il mondo del coding e le sue interazioni con Minecraft. Ci siamo lasciati la volta scorsa con la risoluzione della sfida numero 4, oggi andremo a continuare questa sfida e affronteremo la sfida numero 5. Questo è il punto in cui ci eravamo lasciati, alcuni insegnanti mi hanno chiesto come si potesse far a cambiare la visuale del nostro personaggio, come in questo modo è sufficiente premere il tasto F5 per passare dalla prima visione alla visione alla schiena del nostro personaggio, poi basta muovere il mouse, oppure ancora F5 e passare alla visione frontale. Premo F5, F1 per far comparire il nostro F1, 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 F1 per far comparire la nostra barra di stato. Ok, allora, qui sicuramente ricordate meglio di me cosa dobbiamo fare per chiamare vicino a noi il nostro agent, è sufficiente premere la lettera T sulla tastiera Shift 7 per fare lo slash e digitare code. Invio e magicamente qua in basso la nostra applicazione Code Connection è stata avviata. Clicchiamo su Scratch perché stiamo risolvendo il tutto tramite Scratch, aspettiamo che si carichi l'interfaccia grafica di Scratch, stiamo aspettando un po' troppo tempo per i miei gusti. Clicco su I understand e andiamo a caricare il progetto che avevamo lasciato in sospeso, era tutto qui il codice. Diminuiamo lo stage, aumentiamo la visualizzazione dei blocchi, potrò portarmi giù così ci fa un po' di spazio. Ok, allora, eravamo arrivati alla risoluzione della sfida numero 4. Allora, come possiamo vedere e come ci ricordiamo se avete visto i video precedenti, se io premessi il tasto spazio in Scratch il nostro agent comparirebbe proprio vicino a noi. Vediamo prima che cosa dobbiamo fare. Allora, dobbiamo utilizzare dei nuovi blocchi, dobbiamo, immagino, prendere questi blocchi che abbiamo davanti a noi, utilizzando i comandi move, destroy e collect. Allora, vediamo qui, sfida 5A, immagino che questa poi sia sfida 5B e sfida 5C, una pecorella appena passata. E collezioniamo tutti questi blocchi. Allora, mettiamoci sulla pedana a pressione, ritorniamo su Scratch, premo la barra spaziatrice e magicamente sul nostro Minecraft abbiamo il nostro personaggio. Allora, io premo la barra spaziatrice per saltare e conto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 10 blocchi. Ok, quindi immagino che il nostro personaggio debba ripetere per 10 volte delle cose. Allora, andiamo a vedere le istruzioni che possiamo dare lato Scratch. Io mi prendo questi blocchi scritti in precedenza, duplica e scendiamo. Quindi, quando si preme il tasto numero 5, scendiamo, ok, inviamo a tutti un nuovo messaggio, che è il messaggio 5. Poi, andiamo nelle situazioni, quando ricevo il messaggio 5, controllo, per 10 volte devo fare qualche cosa. Andiamo a vedere cosa deve fare il nostro bel personaggio. Allora, sicuramente deve distruggere qualcosa davanti a sé. Vediamo se c'è questo blocco di distruzione tra quelli che ci mette a disposizione Scratch, Destroy, eccolo qua, Destroy Forward. Abbiamo anche la possibilità di distruggere indietro, a sinistra, a destra, in alto ed in basso. Una volta distrutto il blocco davanti a noi, allora possiamo subito andare in avanti. La cosa che poi ci diceva è che bisogna utilizzare anche il blocco di collezionare tutto ciò che distruggiamo. Vi faccio rivedere qui la sintassi che ci dice, no? Colleziona tutto. Quindi, adesso mi metto per esempio qui, clicco il tasto numero 5, attendiamo due secondi e il nostro agent partirà all'azione. Come vedete, i blocchi vengono distrutti e lui dovrebbe averli collezionati. Come facciamo a vedere come e dove li ha collezionati? Quindi, mi avvicino con la croce direzionale, la punto sul nostro agent, clicco il tasto destro, come vedete 6 più 4 blocchi sono stati collezionati dal nostro agent. Ok. Facciamo così. Mettiamoli a posto. Poi, allora, andiamo alla sfida successiva. Vediamo cosa ci indica il requisito. Dobbiamo collezionare solo i blocchi d'oro, che sono 1 e 2. Sono soltanto i due blocchi d'oro che dovrà collezionare. Allora, posizioniamoci sulla petana a pressione. Andiamo su Scratch. Premo la barra spaziatrice e adesso dobbiamo dare, diciamo, una nuova indicazione al nostro agent. Dobbiamo dire che non deve collezionare dei blocchi a caso, ma deve collezionarli alcuni. Allora, vi volevo far vedere questi blocchi. Mettiamoli qua in alto. Bloc, Decoration Name, Tool Name, Michelinous Name. Allora, questi blocchi, se vedete qua c'è una freccetta nera capovolta. Indicano tutti i blocchi Minecraft che potete trovare. Alcuni sono dei blocchi veri e propri. Altri sono degli oggetti decorativi. Guardate quanti sono. Altri sono degli strumenti. Ok? Vediamo un po' quanti sono anche questi. Ecco, per esempio, la redstone la trovate tra gli strumenti. Ok? E altri ancora sono in questo altro insieme. Allora, noi adesso dobbiamo collezionare soltanto il blocco d'oro, che dovrebbe essere tra questi, che è un classico blocco. A questo punto, io ritorno sulla schermata di Minecraft. Ok? Il nostro personaggio non ha niente nel tasto destro, non ha niente nel suo inventario. Mi posiziono qua sopra e premo il tasto 5. E vediamo cosa fa il nostro personaggio. Come vedete, ha collezionato tutto, tranne alcuni blocchi. Li ha lasciati, questi qui che non servivano. Li sto raccogliendo io. Il nostro tasto destro ha collezionato due blocchi d'oro. Ora, proviamo a risolvere la terza, la sfida numero 5C. Diamond e redstone. Allora, mettiamoci su scratch. Spazio. Così il nostro personaggio è tornato a posto. Quindi, diamond e redstone. Vediamo un po'. Dobbiamo collezionare. Andiamola a cercare perché non so. Redstone dovrebbe essere qui. Vediamo un attimo. LMNOPQ redstone. Ok. E poi diamond probabilmente sta qui. Vediamo un po'. BC diamond. Sì, perché non è né un blocco né un oggetto, il diamante che ne scaturisce fuori. Però mi serve duplicare questo blocco. Quindi lui, a seconda di quello che verrà distrutto, lui prenderà o la redstone o il diamante. E' già posizionato, mi sembra. Sì. Quindi premo il tasto 5. E vediamo come il nostro... Ok. L'ossidiana, vedete, viene scartata. Mentre tutta la redstone e i diamanti vengono collezionati. E questa è, scusate, tasto W, è l'ossidiana che ha lasciato. Tasto destro, 9 oggetti di tipo pietra rossa e 3 oggetti diamanti. Ottimo lavoro ha fatto il nostro agent. Ok. Procederemo con la sfida numero 6 a questo punto. E per oggi è quanto. Ciao. Grazie a tutti.